Ciao a tutti! Oggi prepareremo la tisana tonificante diuretica. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono un'arancia non trattata, succo di arancia, zenzero, pepe rosa e acqua. Andiamo via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta noi abbiamo preso i grani del pepe rosa e con l'aiuto di un batticarne li abbiamo schiacciati. Adesso versiamo all'interno del boccale l'acqua e la facciamo riscaldare per 7 minuti, 100 gradi, velocità 2. Adesso aggiungiamo lo zenzero fresco tagliato a pezzi, il pepe rosa, il succo di arancia e l'arancia che avevamo tagliato precedentemente a fettine. Lasciamo in infusione, azionando il bimbi per 8 minuti. Senza temperatura, velocità soft. La tisana è pronta. Andiamola a filtrare con l'aiuto del cestello. Tisana tonificante diuretica. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.